Hamza Cimave ha rilasciato delle dichiarazioni avvisando, dando un avvertimento a Sean Strickland Deve avere paura, sto venendo a prenderlo Cimave manda un avvertimento forte e chiaro e ha anche detto, anche poi ha argomentato in realtà Cimave dicendo e ricordando anzi che la UFC gli aveva promesso una title shot Anche l'elogiato Duplessis ha detto Duplessis è un avversario molto tosto e adesso è sotto gli occhi di tutti dopo la vittoria su Whittaker Ma Cimave ha parlato in maniera molto chiara e stavolta isolando un po' di più quello che vuole come prossimo avversario rispetto a quando sfidava Pereira, Adesanya, Usman, Leon Edwards, questo e quell'altro Cimave ha detto, vedremo chi vincerà il match fra Strickland e Duplessis e poi io andrò a prendermi la cintura Chiaro che, sempre il solito discorso, più facile la dipsica farsi Bisogna vedere anche in termini di tempistiche, di ritorno di Adesanya Ci sono tanti tasselli del puzzle che devono andarsi a incastrare in maniera ancora non chiara Probabilmente nemmeno la UFC perché tanto prima bisogna passare dal 20 gennaio a Toronto a UFC 297 Però diciamo che la middleweight division adesso sembra essere più viva che mai rispetto agli ultimi anni C'è un match molto interessante con tanto hype, un hype anche un po' dark per come è aumentato ulteriormente l'hype dopo la conferenza stampa Per il match fra Strickland e Duplessis, è un match che adesso credo che la gente abbia proprio voglia di vederlo molto più di prima Nonostante la card sia piuttosto scarna ma quel match adesso è interessante E poi in particolare guardando le ultime due performance di entrambi Sono state due performance non soltanto ottime ma entrambe super impressionanti Probabilmente i due upset dell'anno, anzi sicuramente i due upset dell'anno Insieme a quello di Alexa Grasso su Valentina Scherchenko per quanto riguarda il 2023 E adesso si sfidano tra di loro per vedere chi uscirà campione E poi ci sono già settati, o almeno potenzialmente in programma, i due avversari successivi per chiunque vincerà il titolo Cimer e Adesania E adesso non sappiamo come andranno a incastrarsi tutti questi tasselli del puzzle Ma sicuramente c'è tanta carne al fuoco nella midway division Che negli ultimi anni anche per il regno, o comunque i regni interminabili Mettendoli insieme di Adesania Diventava un po' monotona forse la divisione Per quanto sia ovviamente da elogiare Isra e Adesania per quello che stava facendo Adesso c'è più movimento Poi magari Strickland batterà Duplessis Vincerà le prossime difese tratturate, diventerà un campione dominante anche lui Però adesso almeno ha le varie opzioni E Duplessis non è uno da sottrautare ed è già soltanto la prima Poi occhio a Cimer, occhio a Adesania Nel frattempo c'è sempre l'incrocio per quanto riguarda Adesania con la light heavyweight division C'è tantissima carne al fuoco E da UFC 297 passa tanto tantissimo per la midway division